buongiorno questo settembre parte a tutto abbiamo subito un po' di roba allora google ads praticamente arrivano su google ads cioè torna la quota impressione che è roba che ci serve come l'aria quindi l'impressione share overlap rate un sacco di informazioni senza le quali era veramente difficile quindi per fortuna facebook le categorie speciali chiudono quindi sono interessi politici roba del genere non ci saranno più quindi bisogna andare a capire come intaccano sulle nostre campagne presenti e future primark punti di forza di un brand che è cresciuto tanto ma anche delle criticità c'è un commento che secondo me solleva appunto delle criticità che sono molto molto interessanti una bella analisi mi piacciono entrambe c'è qualcuno oltre a me che vorrebbe fare il pantacalcio andrea cerca dei amici con cui farlo insieme io però a calcio faccio schifo per cui io non mi posso candidare ma se vi fa piacere potrebbe essere divertente in india inizia a far pagare le campagne facebook ads a rate mi sembra incredibile una cosa di genere però perché no potrebbe essere interessante learn fa un evento gratuito dove parlerà di tutto dell'e-commerce di ads social e quant'altro perché no è gratuito e online potrebbe essere interessante google l'imminente crisi finanziaria sta contribuendo all'inflazione ad una potenziale recessione ma come stanno rispondendo i consumatori google si è messo a fare questa ricerca che ha pubblicato qualche dato ora tralasciando il dato che sicuramente è importante trovo ancora più importante il fatto che google ti dica guarda che la crisi ha le porte in altre parole noi dobbiamo cominciare a domandarci la crisi ci sarà come ci organizziamo? pensiamoci subito non ci svegliamo la mattina e poi diciamo oh è apparsa una crisi si sa che sta arrivando purtroppo ma dobbiamo organizzarci google ha appena introdotto il product specific di insight praticamente questi approfondimenti ti consentono di individuare offerte prestazioni sufficienti identificare prodotti con attributi nel feed mancanti confrontare la tua strategia di offerta con i concorrenti quindi sostanzialmente avrai un sacco di informazioni in più sui tuoi prodotti e andranno usate non c'è alternative anzi penso che siano già pubbliche quindi se possono già usare correte subito a vederlo il problema è il check out di shopify ieri non so se anche oggi shopify ha fatto festa quindi il check out non funzionava quindi a parte che è una cosa drammatica cosa possiamo fare beh intanto partiamo con una campagna remarketing facciamo un remarketing su un segmento di tutti coloro che hanno visitato ieri il sito e hanno tipo sono arrivati al carrello e via dicendo dicendogli ehi 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 ieri c'è avuto un problema a shopify corri qui contattami all'assistenza a questo ordine lo puoi fare uguale non li recupereremo tutti ma assolutamente una cosa del genere va fatta se non avete creato sul vostro analytics segmenti per identificare gli utenti di ieri e i carrelli di ieri ai 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 signora Longari quindi preparatemi tutti i segmenti prima perché non si sa mai cosa potrebbe servire un metodo di studio active or recall fa sempre bene imparare a imparare come crearsi un video da soli su google ads avete presente no che ora su google ads sia le performance max che le campagne display in automatico praticamente tutte ti impongono la presenza di un video e se te il video su youtube non ce l'hai lui se lo crea da solo e tendenzialmente fa schifo ma molto schifo quindi all'interno della piattaforma di google ads c'è un tool che ti permette di createlo da solo il video molto meglio dello schifotto che lui si farebbe da solo il finto ritiro dalla russia dei grandi brand è un bel post andate a vedere ce ne sono tanti di questi contenuti dove a un certo punto mcdonald's starbucks hanno detto ah noi via dalla russia ci dissociamo a tutto ciò non è vero nulla sostanzialmente hanno cambiato il logo leggermente quindi ancora riconducibile a chi era prima dentro lo stesso stabile c'è tutto lo stesso personale è tutto uguale a prima tranne che è cambiato il logo e forse la ragione sociale ma comunque i padroni sono loro quindi è una cosa veramente brutta penso che non ci sia altri modi per dirlo seo helpful content update dopo una settimana ancora nessun cambiamento rilevante quindi per ora dormiamo sogni tranquilli tra pochi giorni inizia il 2023 bello questo titolo molto provocatorio e molto saggio ovvero che è ora il momento in cui un'azienda si deve pianificare cosa si fa il prossimo anno quindi ora vanno tirati fuori i budget tanto per incominciare e le strategie non si può fare alla volée o a meno che tu davvero non sia piccolissimo e dici boh mettiamoci i mille euro vediamo che succede ma se vuoi avere una strategia è ora il momento di fare la strategia quindi di capire in che direzione si vuole andare Google Ads annuncia Google Ads ne ha fatto un milione quattro nuovi tipi di future nelle campagne shopping quindi Pmax e via dicendo il conversion value il ruolo del valore di conversione per lo store quindi per i negozi fisici molto interessante product specific insight quindi appunto molte informazioni in più sul prodotto sul suo livello di concorrenza eccetera poi arrivano i resi arrivano nuove possibilità con le api in India si può iniziare a comprare con Whatsapp quindi un'esperienza di commerce completa dentro Whatsapp wow doppio wow e non finirò mai di dire wow sarà una cosa rivoluzionaria quando arriverà anche in Italia ovviamente però insomma è una direzione che dobbiamo monitorare e starci attenti infine ah anzi ho finito c'è soltanto una cosa vi siate mai chiesti come mai le pozzanghe evaporano? allora di solito si dice l'acqua bolle a 100 gradi quindi evapora a 100 gradi ma le pozzanghe non arrivano a 100 gradi e quando ero piccolo mi dicevo bah sarà il terreno che l'assorbe ma ogni tanto tipo c'era sai una vecchia lamiera appoggiata per terra e questa non assorbe la lamiera come fa? eppure la pozzanghe evaporava o i panni stesi ad aperto evaporavano come mai? perché nell'aria c'è una certa percentuale d'acqua quindi c'è un rapporto percentuale che dipende dalla temperatura pressione e quant'altro fra quanta acqua esiste allo stato liquido e alla stessa temperatura quell'acqua allo stato gassoso o di vapore e quindi pur non raggiungendo i 100 gradi una percentuale di acqua evaporerà se vogliamo velocizzare questo processo dobbiamo aumentare l'aria che lo lambisce quindi diluirla in più aria o la temperatura per questo una giornata secca e di sole i panni si asciugano prima però quindi l'acqua non è vero che evapora a 100 gradi l'acqua evapora a 100 gradi tutta spero di essermi riusciti a spiegare però andatela a vedere perché è una cosa divertente detto questo buona giornata ciao dal mio camperino superente ciao addio ciao 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 ciao